Nel 1982 Giuliano Montaldo realizzò Marco Polo, sceneggiato in otto puntate, dedicato alla figura del leggendario viaggiatore del XIV secolo, con un grande cast che comprendeva oltre al protagonista Ken Marshall, attori del calibro di Anne Bancroft, Burt Lancaster, Leonard Nimoy, F. Murray Abram, Mario Adorf, Renato Scarpa, Riccardo Cucciolla e Gino Santercole. Con questa miniserie il regista vinse, forse unico italiano, l'Emmy per la miglior serie televisiva. Agli ultimi telly in DVD e in Blu-ray Awards, Montaldo ci ha ricordato questa esperienza che gli definisce indimenticabile. Girare in tre continenti, con una Venezia ricostruita e con andare in Mongolia, andare nel Tibet e poi in tutta la Cina Nord e Sud, beh, è un'esperienza indimenticabile e ne sono molto felice di averla vissuta perché è irripetibile, credo.